Ultimo aggiornamento energetico di Adama di Telos via Zara Adams, 24 ottobre 2020, traduzione e ricascianti, saluti, amati, siamo molto felici di connetterci con voi qui, oggi, e vi inviamo il nostro massimo amore dal cuore di Telos, miei cari, mentre vi muovete attraverso le energie, perdete strato dopo strato del vostro vecchio sé, questo è un processo continuo fino a quando non siete completamente ascesi e siete liberi, quando state perdendo uno strato del vostro vecchio sé, la creazione emotiva e karmica di questa vita e delle vite passate emerge per essere rilasciata, questo può essere innescato dalle circostanze e dalle interazioni o semplicemente mostrare se stessa come un'emozione, tutti i sentimenti, le esperienze fisiche e le circostanze esterne sono pronte per essere rilasciate, prima siete aperti a rilasciarle, invece di trattenerle, più facile diventa questo processo, per aiutarvi, vorremmo offrirvi un semplice processo di rilascio, respirate profondamente e lentamente, immaginate una calda luce dorata che pulsa nel centro del vostro cuore, immaginate che questa luce dorata e calda riempie tutto il vostro corpo, immaginate che questa luce dorata e calda riempie tutta la vostra aura, immaginate che questa luce dorata e calda riempie l'intera stanza, dite ad alta voce o nella vostra mente, nel nome della mia amata presenza io sono, chiamo ora la schiera angelica, la schiera ascesa e la schiera cosmica per aiutarmi con questo rilascio, senti, vedi e percepisci la loro presenza, chiedo alla fiamma viola di consumare qualsiasi creazione umana che non sia dell'amore divino adesso, virgolette, immagina che la fiamma viola ti circondi dai tuoi piedi su per tutto il corpo e l'aura, respira, chiedo alla fiamma viola di consumare qualsiasi creazione umana che non sia dell'amore divino di questa vita e dei tempi di vite passate adesso, immagina che la fiamma viola si espanda in tutta questa vita e nelle vite passate, respira, chiedo che la liquida luce dorata dell'amore cristico riempie il mio intero essere, questa vita e tutte le vite passate ora, immagina che la liquida luce dorata dell'amore di Cristo si espanda dentro di te in tutte le tue vite passate, respira, guarda, senti e percepisci gli esseri di luce della schiera ascesa, della schiera angelica e della schiera cosmica che interagiscono con te, quando vi sentite completi, riportate la vostra consapevolezza al vostro momento presente, bentornati faccina felice, sentitevi liberi di fare questo processo ogni volta che succede qualcosa, promuoviamo la vostra vittoria nella luce, benvenuti a casa, inviamo a tutti voi così tanto amore, siete portati sulle ali degli angeli, per portare avanti la nuova terra, sappiate nel vostro cuore che siete sempre circondati dai vostri angeli, maestri ascesi, guide, famiglie galattiche di luce e sì, anche dalla vostra famiglia e dai vostri amici a te lo se lo sarete sempre, carissimi, stiamo camminando con voi in questo viaggio e siete amati oltremisura, sempre, sono vostro fratello Adama di Telos, virgolette. Grazie Adama, via Sara Adams fondatrice di The Telos Channel traduzione Erika Shant.